Online o in presenza? È una delle domande che sorgono spesso. Come facciamo a decidere se collocare un determinato evento di apprendimento in presenza o online? Una delle riflessioni da cui dobbiamo partire è che in un contesto in cui gli spostamenti di breve o anche di lungo periodo sono di per sé costosi in termini ambientali, individuali ma anche sociali, è giunto forse il momento di abituarci a considerare la compresenza fisica un'opportunità preziosa alla quale accedere a patto di darle il necessario valore aggiunto. Proviamo quindi a formulare la domanda in un modo diverso. Quando vale la pena di essere presenti in aula? Oppure per quale motivo vale la pena di spostare me e tutti i miei studenti fino a qui per questa specifica attività? La presenza fisica ha una serie di vantaggi tuttora sostanziali. Il primo e forse il più ovvio è che in alcune situazioni è proprio necessaria la presenza fisica per utilizzare oggetti, materiali, attrezzature oppure per esplorare fisicamente edifici, spazi o impianti. È vero che esiste la realtà virtuale ma non sempre abbiamo a disposizione i cosiddetti digital twin, i gemelli virtuali proprio di quello di cui abbiamo bisogno e quindi recarsi fisicamente negli spazi può essere necessario. Un altro tema che viene subito alla mente è quello della relazione con e tra gli individui che nello spazio fisico si dispiega in dimensioni informali, casuali, accessorie che non sono certo impossibili nella comunicazione online ma in quella in presenza assumono caratteristiche più intense, più coinvolgenti. Ci sono però altri fattori su cui vorrei portare la vostra attenzione. Ad esempio l'impatto formativo dello spazio e del modo in cui è gestito. La conformazione fisica dell'università o della scuola, il modo in cui lo spazio è organizzato, arredato, manutenuto è di per sé un messaggio importante che contribuisce alla costruzione dello sfondo valoriale dell'esperienza educativa. Attraverso gli spazi passano messaggi importanti sul ruolo che diamo alla creatività, alla dimensione gerarchica, al rapporto con la tradizione o col futuro, alla relazione con la natura e anche a tutte le altre dimensioni che ci possiamo immaginare in questo contesto. Non è difficile immaginare la differenza tra imparare in uno spazio fisico curato, ben progettato o in uno appena accettabile. Gli spazi insegnano, è importante rendersene conto, anche perché a volte insegnano cose che non vorremmo che i nostri studenti imparassero, per cui facciamo attenzione. Un ultimo aspetto, ma forse quello più importante, è il ruolo che lo spostamento fisico svolge nel creare una cornice, nel delimitare e decontestualizzare l'esperienza di apprendimento. Il fatto di spostarmi fisicamente in un'università o a scuola mi aiuta a delimitare una parte della mia esperienza, a spostarla in uno spazio tempo che percepisco chiaramente come altro dal resto della mia quotidianità. Perché penso che questo ruolo di cornice connesso all'apprendimento in spazi dedicati sia forse l'aspetto più importante? Perché è molto legato al tema dell'interesse, che non a caso etimologicamente significa proprio stare in mezzo, interesse. L'interesse nell'apprendimento rientra negli aspetti che potremmo definire energetici della motivazione. Quali sono le forze che portano lo studente ad impegnarsi in una specifica attività? Oltre alle percezioni di utilità e di importanza della disciplina, alle motivazioni prestazionali, se sto attenta prenderò un buon vuoto, al desiderio di provare la soddisfazione legata alla crescita delle competenze, se imparo questa cosa sarò contenta, abbiamo infatti una dimensione particolarmente rilevante, il cosiddetto interesse situazionale. Io posso ad esempio ritenere che la matematica non abbia nessuna utilità, ritenere che non riuscirò ad essere ben valutata, essere convinta che non trarrò mai nessuna soddisfazione dall'impegnarmi in questa disciplina, ma posso comunque essere catturata da un corso su questo argomento. Come mai? La chiave è il cosiddetto interesse situazionale, la spinta ad attivarmi, ad immergermi in una specifica attività che viene da aspetti stimolanti che sono offerti dal contesto di apprendimento. Questo interesse situazionale è determinato da vari fattori che interagiscono tra loro, ciò che avviene, il modo in cui veniamo coinvolti, il sistema relazionale tra gli individui presenti, ma anche lo spazio fisico e le sue caratteristiche ambientali contano. L'interesse situazionale può essere attivato anche online attraverso dinamiche di apprendimento che stimolino una partecipazione attiva e collaborativa, tale da farci un po' dimenticare ciò che avviene attorno e farci immergere completamente nella relazione didattica. Dobbiamo però tenere presente che il fatto stesso di aver investito energie nello spostamento verso la scuola-università, la distanza fisica, che diventa anche psicologica, dal proprio contesto abitativo e familiare e lo stato emotivo che è indotto dalla presenza fisica di altre persone che si mostrano interessate intorno a noi, sono dimensioni difficili da ricostruire online con la stessa efficacia. Investire sulla presenza fisica in eventi di apprendimento particolarmente cruciali nel processo è dunque una carta che ci possiamo giocare quando abbiamo bisogno di spingere al massimo sulla leva dell'interesse situazionale, una carta che è ancora più efficace quando non è depotenziata dall'abitudine quotidiana. Teniamone conto. Riguardo a questo aspetto, non dimentichiamoci che la distanza fisica è vissuta in modo differente dai soggetti del processo di apprendimento. Gli studenti soffrono più che la mancanza della vicinanza fisica con il docente, l'assenza fisica degli altri studenti, mentre i docenti denunciano quella mancanza di energia che deriva loro dalle complesse reazioni emotive indotte proprio dal mettere in scena una prestazione di fronte all'aula. Non è tanto un disagio dovuto alla mancanza di interazione quello dei docenti, infatti molti docenti che lo segnalano in questi termini non sembrano poi impegnarsi in modo particolare nell'interazione né in classe né online. Si tratta allora qualcosa di diverso, che è legato proprio a quel ritorno che possiamo definire energetico, che come docenti riceviamo dall'esposizione di fronte a un pubblico, spesso molto numeroso, col quale esiste una relazione informativa e di potere, e lo sto dicendo in modo assolutamente benevolo, del tutto asimmetrica. Non c'entra nulla con l'interazione né con l'efficacia didattica, siamo sul piano della motivazione del docente, aspetto chiave, ma che non va confuso con gli altri. E quindi quando investire sulla presenza? La nostra proposta è che la scelta della collocazione in presenza vada compiuta tenendo nella massima considerazione il ruolo che la presenza fisica curata e ben dosata, può giocare come motore della motivazione di studenti e docenti. La scelta di quali e quanti eventi di apprendimento portare in presenza deve essere quindi compiuta tenendo conto non tanto del singolo evento d'apprendimento, ma deve essere ben calibrata rispetto all'insieme di tutta l'esperienza formativa. La presenza di qualità è un investimento da gestire con cura, valutandole accuratamente tempi e luoghi rispetto all'intero percorso.